Ha da poco preso vita una modalità di pagamento che ha tutti i requisiti per diventare il nuovo gioco preferito degli italiani, la lotteria degli scontrini. E anche se il battesimo ufficiale avverrà dal 1 gennaio 2021, dal 1 dicembre si è già dato il via alla procedura di registrazione tramite l'apposito portale online, per poter così partecipare al gioco ottenendo il codice lotteria da esibire agli esercenti per i pagamenti cashless. Effettivamente può essere, credo, una cosa importante per il cliente, un po' meno magari importante per l'esercente. Perlomeno non pretendete altro sangue da noi, altri soldi da noi, non potete obbligarci a rimodulare le nostre attrezzature, i nostri post. Abbiamo già da fare tante cose, non è certo la lotteria dello scontrino che ci aiuta. Ma come funziona questa lotteria? Proviamo a fare chiarezza. Al momento degli acquisti basterà mostrare il codice al negoziante che verrà così associato alla spesa effettuata. Ogni scontrino legato al codice lotteria del cliente farà ottenere un biglietto virtuale per ogni euro speso fino ad un massimo di 1000 biglietti virtuali per acquisti di importo, pari o superiori a 1000 euro. 10 scontrini possono quindi far ottenere fino a 10.000 biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 biglietti e così via. Io mi devo ancora informare perché le notizie sono troppo frastagliate, i commercialisti ancora non sanno niente. E non hanno nemmeno pronti software, cioè sono tutti, anche le ditte che ci forniscano la roba non sono pronte. Ma per gli stessi commercianti potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio costando tempo e soprattutto denaro per l'adeguamento dei servizi posse con l'inserimento dei nuovi codici che però dovrebbe avvenire da remoto ed in particolar modo per il rischio di incorrere in sanzioni. Non dovessero essere pronti a soddisfare il desiderio del cliente di partecipare. Una gran cavolata perché devo andare a spendere altri soldi per poi fare questa lotteria qua per un caffè che mi viene speso. Potremmo aspettare perché in questo momento è delicato, i problemi non sono indifferenti. Se la cosa è importante e vale, noi esercenti siamo sempre in prima linea. Se logicamente è una cosa che non può essere importante, vedremo di adeguarci in un secondo tempo. Cresce dunque l'attesa per l'inizio di quella che potrebbe essere una nuova era con le estrazioni che saranno mensili, settimanali ed annuali e con la possibilità di spendere per l'acquisto di qualsiasi bene materiale e sperare in un ritorno, in una possibile vincita che potrà arrivare fino a 5 milioni di euro, così come non arrivare mai. Mi sembra che in questo momento i negozianti siano costretti a supportare già un peso piuttosto neroso.